Allo stadio Filippo di Tella il Pineto pareggia per 1-1 contro il Vasto Girardi nel recupero della venticinquesima giornata. Dopo il vantaggio firmato Romano, Alagia nella prima frazione pareggia per i suoi. Nella ripresa le due squadre non trovano il guizzo vincente. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo la consueta fase di studio sono i biancazzurri a portarsi in avanti. Mini Incleri pennellata al bacio e firma di Romano per il vantaggio adriatico. Al ventiduesimo si fa vedere il Vasto Girardi a solo di Alagia. Guida controlla e calcia ma spara fuori. La posizione è privilegiata. Dalla parte opposta risponde l'undici di Mister Amauro. Galeano apertura panoramica per Della Quercia. Slalom e conclusione a giro di un soffio alta. Alla mezz'ora per il Pineto raddoppia Domizzi ma tutto viene annullato per fuorigioco tra le vibranti proteste terramane. Il match è frizzante. Dopo un'azione insistita Irace prende la mira. Palla sul fondo di poco. Poco male per Rialto Molisani. A 10 dal termine guida. Bisturi per Alagia che davanti a Mercorelli non sbaglia. Impatta la contesa. Sempre il numero 11 si mette in proprio sul finale della prima fazione. Il suo mancino a giro finisce di poco sul fondo. Nella ripresa il match vede un sostanziale equilibrio in campo. La prima occasione di una certa rilevanza arriva solo alla mezz'ora del Mastro. Neo è entrato, si gira e conclude sul fondo. Sempre il Pineto vuole il vantaggio, vuole tre punti. Mini Incleri, arcobaleno di un nulla. Sopra la traversa è l'ultimo guizzo di un match scoppiettante nella prima frazione. Molto agonistico nella ripresa. Sì, diciamo, visto che è la terza partita della settimana per entrambe le squadre, sicuramente penso che la gente si sia divertita. È una bella partita, ha giocato a viso aperto. Entrambe le squadre hanno provato a vincere. Buona geometria di gioco. Tante situazioni favorevoli, tanti episodi che poteva decidere la partita in un modo o nell'altro. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, è una squadra molto giovane. Stiamo conmando qualche carenza di qualche giocatore esperto con l'entusiasmo dei giovani. Siamo soddisfatti di questo e non era facile venire qui a giocarsi la partita a viso aperto con il Vazzo Girardi, che sappiamo la propria forza sul proprio terreno. È una squadra organizzata che gioca un buon calcio. La prestazione mi soddisfa. L'episodio poteva decidere la gara a nostro favore quando è stato un uonato il gol. Non sta a me decidere doveva la panchina, non l'ho visto. È un episodio come tanti capitano la domenica, però tante volte possono incidere sul risultato finale. È una partita difficile contro la squadra forte. Siamo andati in svantaggio su un grande gol del Pineto, ma a partita dalla nostra piccola ingenuità. Contro queste squadre, se sbagli, ti puniscono. Poi siamo stati bravi a rimanere in partita, a fare il pareggio, a cercare di vincere la fine alla fine, rischiando anche qualcosina. Però, ripeto, è stata comunque una buona partita e un buon punto che ci muove la classifica. Era un'altra salvezza difficile, lo sappiamo. Sapevamo che il nostro destino era quello. Però, ripeto, domenica abbiamo un'altra partita molto difficile, andremo a affrontarla nel migliore dei modi. Cerchiamo di affrontarla nel migliore dei modi e poi affronteremo l'ultimo recupero e ci prepareremo per il rush finale.